Buongiorno amici, allora come promesso domenica durante il video post gara di Formula 1 vi faccio questo piccolo video, come dire, visto che questa è la settimana del Gran Premio di Imola che torna nel calendario ufficiale della Formula 1, pensate, dopo ben 14 anni dalla sua ultima apparizione era il 2006 e niente, cosa posso dire su questo circuito? Allora, questo circuito, come ben sappiamo, è noto soprattutto a due tragedie, sempre nell'ambito della Formula 1 e sono le due morti di due piloti di Formula 1 quello che a noi viene sicuramente in mente è Ayrton Senna ma purtroppo non è stato l'unico pilota a perdere la vita in quel circuito ma c'è stato anche un certo Roland Ratzenberger anche lui purtroppo ebbe un gravissimo incidente che purtroppo gli fu fatale e se non ricordo male, questo incidente lo ebbe durante le prove libere del Gran Premio appunto il venerdì, il venerdì poveriggio invece purtroppo l'indimenticabile Ayrton, come tutti sappiamo l'incidente lo ebbe durante la gara, quindi la domenica io l'ho definito tante volte quel maledetto Gran Premio di San Marino perché due piloti che muoiono a distanza di 48 ore insomma, vuol dire che c'era proprio qualcosa nell'aria che doveva purtroppo finire in quel modo lì ma detto ciò, io voglio dire che io lo scorso anno lo scorso anno ho avuto la fortuna di poter andare su quel circuito ad Imola sono andato perché in quei giorni c'era appunto una mostra dedicata ad Ayrton Senna ed era proprio all'interno del circuito e quindi io essendo un grandissimo appassionato di Formula 1 e nonostante sia un tifoso Ferrari un suo grande appassionato un suo fan io mi ricordo che quando lui correva io ero un bambino era un bambino diciamo piccolo e nonostante io ho sempre sostenuto la Ferrari anche in quegli anni e anche negli anni in cui correva lui però avevo diciamo un debole per lui nel senso tifavo anche per lui quindi io non mi nascondo, non lo nego e quindi sono contento di essere stato un suo fan nonostante, ripeto, sia un grandissimo tifoso della Ferrari e come tutti gli appassionati tifosi della Ferrari mi sarebbe piaciuto vederlo sulla rossa però purtroppo il destino è stato beffardo e quindi noi non abbiamo avuto la possibilità di poterlo vedere con la tuta rossa con la tuta del cavallino rampante anche se a titolo di cronaca storica c'erano stati dei contatti tra Ayrton Senna e la Ferrari mi sembra all'inizio degli anni 90 mi pare nel 92-93 ma mi sembra nel 92 solo che le parti non riuscirono a trovare un accordo definitivo poi anche la macchina non era tanto competitiva e quindi Ayrton Senna decise di restare in McLaren e poi all'inizio del 94 andò in Williams e poi purtroppo sappiamo tutti come andò a finire quindi detto ciò io quando sono andato proprio in questo periodo perché era proprio il weekend dei morti quindi proprio domenica che è il primo di novembre e l'anno scorso andai di sabato perché era un sabato quindi andai a vedere questa bellissima mostra è stata una mostra molto toccante perché a parte c'erano tante cose che riguardavano lui c'erano alcune sue macchine c'erano tre macchine che lui guidò la Lotus del 1987 la McLaren l'ultima McLaren che lui guidò quella del 93 col motore Ford e poi ci fu la Williams del 94 che non è quella in cui lui ebbe l'incidente ma era diciamo è quella che lui guidò nei test invernali del 1994 quindi all'inizio della stagione però come dire il prototipo e poi la motorizzazione era quella del 93 quindi era diciamo la macchina precedente lui fece i test per campionato con la macchina dell'anno prima e quindi c'era appunto la Williams poi c'era il suo kart di quando da ragazzino correva nel campionato europeo che lui vinse nel 1978 se non ricordo male quindi a 18 anni lui vinse il campionato europeo di kart e poi dopo entrò nelle varie formule minori e poi sappiamo tutti che nell'84 nel 1984 fece il suo esordio in Formula 1 con la Toleman con la Toleman e ci sono dei video in cui lui a Monte Carlo nel Gran Premio di Monaco arrivò secondo se non erro secondo sotto un diluvio universale fece una gara magistrale e poi dopo sappiamo tutti nell'85 andò il Lotus ci furono le prime vittorie poi dopo i tre anni il Lotus nell'88 approdò il McLaren ed iniziò la sua epopea diciamo mondiale già nell'88 vinse il campionato piloti il mondiale piloti nell'89 potè vincere fare subito doppietta però sappiamo tutti che fu squalificato durante il Gran Premio del del Giappone del 1989 e quindi Alain Prost riuscì a vincere il mondiale poi nel 90 nel 91 che sicuramente dicono gli esperti il 91 soprattutto fu il suo anno migliore lui espresse diciamo il massimo il meglio di sé nel 1991 e nel 90 nel 91 riuscì a fare la mitica doppietta di vincere due mondiali consecutivi poi in quella mostra ci furono appunto anche dei video con alcune gare alcuni frammenti e e poi c'erano i suoi caschi le sue tute le sue tute le sue tute e però se volete se volete su questo canale su Russell Superman perché sono caricati su Russell Superman ci sono questi tre video quindi se volete andate a vederli perché meritano meritano e niente per me fu come dire un'emozione unica perché poi perché poi adesso mi stavo dimenticando oltre a vedere la mostra andai proprio sulla curva del tamburello all'interno del parco non sul circuito perché andai a vedere il monumento che gli fu dedicato e feci anche due piccoli video quindi oltre ai video all'interno della mostra ci sono anche due piccoli video sul che testimoniano il monumento dedicato ad Ayrton Senna quindi se volete se vi fa piacere mi raccomando andate a a vederli a vederli perché meritano meritano ve lo dico io meritano magari lasciate se volete un piccolo commento sia su questo video che se volete su su quegli altri e fatemi sapere che cosa ne pensate e niente io per il momento vi saluto vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a domenica domenica per il video post gara di questo diciamo ritorno ritorno importante del gran premio di Imola che non è più come dire il gran premio di San Marino ma è stato intitolato il gran premio dell'Emilia Romagna quindi come dire è un circuito sul territorio italiano e quindi quest'anno batterà batterà bandiera italiana quindi dopo il gran premio di Monza dopo il gran premio del Mugello ci sarà un terzo gran premio in esclusiva sul territorio italiano e sarà appunto il gran premio dell'Emilia Romagna ovvero il gran premio di Imola e con questo il vostro Russell Superman vi saluta vi ringrazia e vi dà appuntamento a domenica pomeriggio dopo la gara per il consueto video post gara buona giornata a tutti e mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi commentate mettete un sacco di mi piace e e niente ciao